Sì, perché sono rimasto con i vicini gli altri. Ma praticamente lui può fare queste cose e no? Secondo noi no. Assolutamente. Se poi l'organizzazione strutturale dipende quanto si può salto, ci spiego, questo è un'organizzazione strutturale, ma è stato un consiglio, però il consiglio è che l'organo principale. Sorry. Grazie.